Arisa Buonasera a tutti Vogliono vedere bene proprio, ti vogliono ammirare Come va? Hai capito che pirouette? Hai capito? Molto bene Ieri sera? Emozioni? Felice, tu? Felicissimo, ce l'ho al microfono Grazie Prego Qual è stato il momento che ti ha emozionato di più? Eh, la discesa E poi quando c'è stato Quando c'è stata Romina con Albano Mi sono chiesta per tutto il tempo Se lui fosse ancora innamorato di lei Mi sembrava di sì Ti ha risa Va bene